Sabato 10 giugno tornerà ai Terni Rothside, il Festival degli Artisti di Strada, alla sua terza edizione. Come abbiamo visto nelle precedenti edizioni, sarà caratterizzato dalla presenza di postazioni di artisti di strada, quindi molto attrattivo sia per grandi che per bambini. Quest'anno si aggiunge una grande novità, la collaborazione con alcuni comitati di via del centro cittadino che per l'occasione allestiranno un'esposizione promozionale dei propri prodotti commerciati all'interno del negozio per arricchire la manifestazione e comunque avere l'opportunità di usufruire di questa vetrina a cielo aperto. Perché ricordiamo che Terni Rothside è finanziato dai fondi del marketing del PUC2 che appunto dovrebbero servire proprio a potenziare le attività commerciali del centro cittadino. Io rappresento Via Angeloni, noi partecipiamo a Terni Rothside appunto scendendo in strada insieme agli artisti e proponendo le nostre promozioni per l'estate, degli sconti, ogni negozio avrà uno sconto. La nostra associazione oltre alle 5-6 postazioni previste di artisti di strada da parte degli organizzatori, tutti i nostri associati aderenti all'associazione faranno un allestimento, un'esposizione all'esterno dei propri locali. Ci saranno molte sorprese perché i nostri associati sono stati molto inventivi. I carretti del gelato artigianale da parte delle gelaterie di Via Roma e di Piazza Europa, una postazione di mini golf, altre iniziative che riguardano il DJ cocktail e un allestimento tipo spiaggia per altri aderenti.